La festa goliardica al palazzo ducale di Ferrara. Per volere del principe Gesualdo, il matrimonio con Eleonora d'Este fu preceduto da una festa goliardica, per esaltare il delitto di onore. Con la festa, egli voleva dimostrare all'opinione pubblica ferrarese, ma soprattutto a quella dell'Italia meridionale e napoletana, che non aveva nessun pentimento per il delitto commesso, ma anzi era convinto che l'infedeltà della moglie aveva macchiato di vergogna e disonore la sua persona e la sua nobile famiglia. La festa si svolse in alcune sale dello stesso palazzo ducale di Ferrara e vi parteciparono più di cento dame e cavalieri. Probabilmente non tutti i partecipanti alla festa goliardica erano in animo a celebrare questo delitto d'onore. Certamente la stessa memoria dello zio Carlo Borromeo non ne fu gratificata e sicuramente supplicò il Signore affinché il nipote potesse pentirsi di questo grave peccato.